Ciao ragazzi, sono Matteo Marcos Boc. Vi piace l'unboxing? Io ne vado matto. Cosa c'è di meglio di aprire nuovi regali e giocattoli? Infatti, Nickelodeon, per il best year ever, la celebrazione dei 20 anni di Spongebob, ha creato dei nuovi merchandising, giochi e gadget per celebrare il nostro caro amico Spongy. E qua ne abbiamo alcuni fantastici. E che ne dite se li apriamo insieme? Iniziamo con la prima scatola. Sono molto curioso. Ok, la cosa si fa interessante. Wow, ragazzi, ma... La voglio, è bellissima! Ma è fantastica, l'adoro. È strepitosa, giuro. La indosserei adesso, però non so se posso. No, è veramente stupenda questa felpa. Mamma mia, adoro. Ragazzi, tanta roba. Seconda scatola. Andiamo. Ok. Interessante. Wow, no! Ragazzi, se avessi un motorino andrei in giro soltanto con questo, ma è una bomba! Aspetta, adesso lo devo provare. E sicuramente è anche molto utile, perché, come sapete, la sicurezza è super importante. È un po' piccolino, però ci sta! Ragazzi, è tantissima roba, l'adoro. Continuiamo con la prossima scatola. Molto misterioso. Ah, l'ho trovata! Wow! Ok, ragazzi, ste magnette mi stanno facendo impassire. Ma che bomba! Ma voglio anch'io! Ma... Ah, in collaborazione con Octopus, ma che... Wow! Geniale, geniale. Nickelodeon, siete pazzeschi! Incredibili! Mettiamolo qua. Perfetto! E l'ultima scatola. Pronti? E... Credo di riconoscere chi è qui dentro. Aspetta un attimo. Chi non poteva essere? Ovviamente il nostro Spongebob. Forking? No! È geniale, aspetta un attimo. Ok, ragazzi, questa cosa, questa qua la voglio. Me la porto in classe e faccio scherzo a tutti quanti. Non so se si sente. Ah! Ah! Ragazzi, è geniale! Spongebob... Capito, però basta, basta fagioli, basta fagioli, Spongebob. Ok, abbiamo la risposta. Comunque, ragazzi, questi gadget sono stupendi. Li vorrei avere tutti quanti. Mamma mia. Quindi, voi cosa ne dite? Credo che questo sia il modo migliore di celebrare i 20 anni del nostro caro amico Spongy. Tanti auguri, bro. Ciao da Matteo Marcus Bock.